Presidente Scaduto, quello che è successo ieri con il mare invaso dalle casette di polisterolo ha un po' fatto finire nel mirino i pescatori, ma oggi lei, Presidente della Cooperativa Madonna del Soccorso, in che modo replica, come interpreta quello che è successo? Secondo il suo giudizio, cosa è successo? È successo tra sabato e domenica, c'è stata a parte una mareggiata, il vento forte, la mareggiata è successo che tutte quelle casette da anni, non un giorno o due giorni, da anni, sostavano sotto la banchina, che le banchine sono vuote, sostano là, con l'alta marea che c'è stata tra sabato e domenica, di notte, tutte quelle casette sono state risucchiate, erano a centro del porto, il forte Scirocco, li ha portati tutti in spiaggia, non so, a Lido, a qualche altra parte. Cosa ci facevano sotto la banchina le casette? Ce le mette lì? Non ce le mette nessuno, ve ne dico una, a parte che un po' di cassette sono da anni che sono là, che sostavano, erano ancorate con le pietre perché c'è come una scogliera sotto la banchina, erano ancorate là. Un anno è compreso dei 365 giorni, facciamo una cassetta al giorno, moltiplichiamo, 4-5 anni e vediamo quante cassette si fanno, queste sono le cassette. Però non ci dobbiamo dimenticare che nel mese di agosto, col problema delle discariche, la zona portuale era una discarica di tutte le cassette, cosa c'era? Il vento, i gatti, i gabbiani, che li prendono e li buttano in mare certe volte, il vento forte ne ha buttato un mare, il mare ne ha buttato, non lo so quanto ne ha buttate. Quindi dalla zona dove ci sono i cassonetti il vento li ha spostati facendoli finire in mare, poi da lì le mareggiate? Una cassetta 120 grammi pesa, è una leggerezza notevole. Ma questo rende credibile che il mare sia stato completamente invaso ad un certo punto? Sì, tutte quelle poi cassette che si sono viste nelle spiagge, ce n'è qualcuna intera, come vi ho detto prima, sono molte cassette che da anni che stavano sotto la banchina, perché non è che c'è stato da 4-5 anni, non mi ricordo, un servizio che si attua nella zona portuale. Ma non c'è l'isola ecologica lì, realizzata da poco nell'ambito del GAC? Speriamo, perché la burocrazia è quella che è, io lo so perché sono un componente del GAC, sono nel consiglio di amministrazione. Purtroppo la burocrazia è quella che è, però anche che questa amministrazione no, che si adopera a fare funzionare queste cose. Anche l'amministrazione che faccia qualcosa non può dire solamente i pescatori, perché poi i pescatori non le vanno a buttare. Io quando la mia barca, tutte le barche rientrano con quella quantità di pesce, si carica sui cammi e vanno a finire con tutta la cassetta sui mercati di Palermo e Catania. Di notte il porto è incustodito, non è che possiamo sapere chi scende. Io vado a trovare la mattina alcune volte dei materassi, televisori buttati. Chi le va a buttare? Un pescatore queste cose. Ecco, ma voi in che modo volete dimostrare all'opinione pubblica che ci tenete più di tutti al mare? Ma noi siamo pronti a collaborare con tutti, capitaneria, comune, se ce lo chiedono perché no? Noi siamo pronti a fare questa cosa, per il bene, per questo escolibrio che si è creato.